we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche per quello che riguarda il futuro di fortnite ma soprattutto la nuova emote che nel tardo pomeriggio di ieri è stata ufficialmente presentata direttamente da epic games la bangra emote oggi ne parleremo tanto vedremo come ottenerla se arriva dove arriva quando arriva come fare non vi preoccupate ma parleremo anche di quanto sta succedendo in casa sony e di alcuni problemi ma ragazzi non vi dimenticate mi raccomando di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi perché arriva direttamente da fortnite status me lo avete scritto in tantissimi nel video di ieri che è uscito quello degli anelli fluttuanti a parco pacifico non è possibile prenderli semplice la settimana scorsa mi fanno la challenge gli anelli non si vedevano ma si potevano prendere questa settimana gli anelli sono semplicemente buggati arriva appunto un messaggio che dice noi abbiamo ci siamo accorti che c'è questo problema con gli anelli fluttuanti a pleasant park provvederemo a fare un velocissimo update adesso io non so se questo video è stato registrato dell'update è già stato fatto comunque non vi preoccupate che nel giro di poco sarà possibile recuperarli e quindi completare tutte le missioni della settimana numero 4 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo ieri appare questa immagine la bangra buggy e motte innanzitutto cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di questa e motte come vedete ragazzi è davvero molto curiosa molto simpatica ed è un'emote esclusiva per i possessori di one plus infatti arriva questo messaggio che dice the bangra buggy e motte che è stata che è stata rilasciata in anticipo per i possessori di one plus sarà probabilmente anche in arrivo nello shop di fortnite questa è in realtà una scritta una serie di una frase detta da un leakers però c'è stato qualcuno che è andato a contattare direttamente il supporto tecnico di one plus e gli hanno fatto la stessa domanda questa emote sarà disponibile anche sullo shop di fortnite e loro rispondono in questo momento rimarrà esclusiva per i device one plus però ragazzi dicono in questo momento e tra l'altro è stato detto che è in arrivo anticipato non è esclusiva quindi probabilmente ci sarà la possibilità di vederla molto presto nello shop di fortnite ma cerchiamo di capire se c'è qualcuno che ha un one plus come fare innanzitutto questa è la l'immagine dedicata al tweet che ha fatto one plus la pagina e infatti è una collaborazione di di one plus con fortnite questa invece è l'immagine che troverete andando direttamente nel sito di one plus che è oneplus.com fortnite e come vedete ci sono tre step da fare accedi al tuo account trova il numero email e il numero pcb a e dopo aver ricevuto il codice inseriscilo allora quando noi faremo riscuoti la tua emote quindi premeremo su quel bottone rosso vi chiederà l'accesso quindi create un account normalmente con le credenziali accedete innanzitutto questi sono i device che hanno garantita l'emote quindi one plus 3 3 t 5 5 t 6 6 t 7 7 pro 7 t 7 t pro 8 oppure 8 pro device il tuo device deve avere tutto l'oxygen o s software update quindi il sistema operativo del cellulare deve essere completamente aggiornato lo potete tranquillamente comunque aggiornare dai settings del menu una volta appunto che avrete cliccato il tasto rosso vi chiederà l'email e il pcb a andiamo a vedere come si ottengono tutti e due per ottenere il codice email è semplice con la vostra tastiera sul cellulare digitate asterisco cancelletto 0 6 cancelletto vi apparirà una schermata simile a questa lasciate perdere tutto quello che c'è scritto prendete solamente il numero classificato come email 1 o se vi appare un numero solo vuol dire che è quello questo è il vostro codice email mentre tornando sulla tastiera e digitando asterisco cancelletto 8 8 8 8 cancelletto apparirà il numero pc bia che è quello che è stato nascosto qua insieme al qr code avendo questi due dati li andata ad inserire nella pagina che vi ho detto prima e se sono corretti vi apparirà questa schermata congratulazioni tu hai verificato il tuo one plus phone e sotto vi viene dato il codice dove si inserisce questo codice semplicissimo nella pagina fortnite punto com slash redem ok quella che utilizziamo per riscuotere tutte le ricompense quindi ragazzi qualcosa si sa chi ce l'ha la potrà già ottenere ma penso quasi certamente che arriverà per tutti nello shop e quindi è un peccato che non rimanga esclusiva semplicemente per i cellulari e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ed è anche l'ultimo argomento di oggi è una grande notizia arriva direttamente da casa sony per chi non lo sapesse ragazzi epic games ha ricevuto un investimento di 250 milioni di dollari direttamente da sony questo ha permesso a sony di entrare con una piccola percentuale nella Nelle quote associative in poche parole anche sony può dire la sua nell'universo di fortnite questo vuol dire che sony stessa si preoccuperà di aiutare negli aggiornamenti tutto il team di epic games e in poche parole come chiude questo tweet fortnite will never dai quindi quando subentra un colosso gigante come sony sappiamo che una compagnia praticamente non potrà mai fallire insomma ragazzi oggi il video è stato un po più breve le news sono faticose da trovare in questi giorni dobbiamo attendere ancora un po di pazienza per arrivare all'aggiornamento voglio ricordarvi che domani però si abbasserà il livello dell'acqua indicativamente verso le sette del mattino o le otto adesso non ricordo bene quindi molte delle delle location che adesso sono sommerse riemergeranno staremo a vedere quanto cambierà la mappa e se comincerà ad essere molto più giocabile per quanto riguarda appunto il numero di terre emerse io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao io non posso fermare un video 8 e 50 altrimenti la monetizzazione non c'è se happy games non mi dà le notizie cosa posso fare non so le cose io ve le dico ma inventarle non ho proprio no ed è lunga arrivare a dieci minuti se vuoi cantare purtroppo ragazzi è così ragazzi purtroppo è così però noi non abbiamo assolutamente nessuna fretta siamo qua a controllare una schermata nera altro che il buco nero di fortnite questo è lo il buco xuder nero questo non fa assolutamente una piega c'è chi mette le schermate nere c'è chi mette i gameplay io non metto niente parlo davanti a uno schermo nero per cercare di raggiungere i dieci minuti dite quello che volete fate quello che vi pare ma intanto noi ci siamo arrivati quindi vi ringrazio con una canzone e ci vediamo presto ciao